Oggi abbiamo inaugurato questo importante complesso e 31 famiglie veneziane si sono insediate in questa importante struttura. È una forte risposta a quelli che chiedono un intervento della pubblica amministrazione sul fronte della residenzialità, però non la residenzialità che abbiamo conosciuto fino adesso, delle case popolari, dei quartieri ghetto, del disagio sociale accentrato, ma soprattutto una residenzialità del ceto medio, delle famiglie, di chi ha un lavoro ma non può abitare a Venezia per il costo troppo alto degli affitti. È una risposta importante che crediamo vada nel segno di portare a Venezia famiglie ceto medio che sono la spina dorsale di ogni città, in particolare Venezia.